Stai attento! È stata la prima minaccia incisa a caratteri cubitali sulla fiancata della station wagon di Polo Borrometi, il 32enne giornalista del Ragusano che ha svelato i segreti della mafia di Scicli. Per colpa, o meglio grazie, a suoi articoli per cui ha ricevuto minacce e violenze prima della vita sottoscorta, quasi per tutti Scicli e il Ragusano erano la terra senza mafia, set del commissario Montalbano. Ora, dopo i suoi pezzi pubblicati sul sito laspia.it, Scicli è il comune sciolto per infiltrazioni, con il sindaco rinviato a giudizio per concorso esterno. Questa mattina Borrometi ha portato la sua testimonianza all'interno delle manifestazioni del premio Borsellino. Non si deve girare la testa dall'altra parte di fronte ai reati, ha detto Borrometi e i ragazzi delle scuole intervenuti alla manifestazione nella sala dei marmi della provincia di Pescara. Io penso di aver fatto solo e unicamente il mio lavoro. D'altronde un cittadino che vede un reato e non lo denuncia non è un buon cittadino. È un giornalista che si gira dall'altro lato rispetto a fatti che vede con i propri occhi. Non solo non farà bene il proprio lavoro, ma avrà la responsabilità di non avere informato. Certo, pesa, pesa tanto. Sono stati tre anni difficilissimi. L'aggressione, le minacce, la vita sottoscorta. Però penso che senza nessun tipo di coraggio, n'eroismo, n'esempio, un giornalista deve fare solo e unicamente il proprio lavoro. È quello che ho cercato di fare. In una terra meravigliosa che è la provincia di Ragusa, la più ricca della Sicilia, terra dove è morto un giornalista, Giovanni Spampinato, e dove si è sempre negata la presenza mafiosa. Ecco, dove si nega la presenza delle organizzazioni mafiose, quello è il terreno fertile per le organizzazioni mafiose. Sono fondamentali la vita di persone come Giovanni Falcone, come Paolo Borsellino, ma non solo, gli uomini e le donne delle loro scorte e i tanti giudici vanno ricordate non solo nei giorni dei tristi anniversari della loro morte, ma tutti i giorni con le testimonianze viventi, facendo vivere le loro idee sulle nostre gambe e con l'impegno appunto dell'essere cittadini e non sudditi. Perché purtroppo si può essere sudditi anche in una repubblica, quando si cede al puzzo del compromesso, quando ci si gira dall'altro lato. E questo è un vezzo che troppo spesso avviene. In una terra difficile, ad esempio, io parlo della mia Sicilia, ecco perché è importante. Eventi come questi per sensibilizzare e far comprendere che ognuno di noi deve impegnarsi nel proprio quotidiano per la legalità, che non è una parola astratta, è fatta dai piccoli gesti.